Oggi noi iniziamo una collaborazione, abbiamo la possibilità di collegarci con Fabio Caressa per fare il punto sulla giornata di campionato. Allora colleghiamoci con Fabio. Ciao Fabio, ci sei? Fabio? È in studio? Dov'è Fabio? 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 Scusa, mi puoi attivare il collegamento con... Fabio? Fatto? Non ci sente, Gene? Scusa, ma non possiamo collegarci? No, ci proviamo più tardi, Gene. Allora, vabbè, ci colleghiamo più tardi. Ci pensate, mi chiami tu? Mi chiamo io, no. Ok, va bene. Allora, per dirci cosa accade, non sconfina...